Due, aspetta che sono arrivati dei signori, ciao buonasera, eravamo in pena diciamo, uomini di qua, uomini di là, allora, uno, due, tre, maschietti, e uno, o lì, o lì, o lì, o lì, va bellissimo, prego, uno, due, tre, vai. Mancava il pezzo da 90, è arrivata, eccola qua, bellissima, ciao. Bene, wow, è arrivato, il pezzo da 90, che bei capelli, vai, bellissima, mamma mia, stupenda, stupenda, veramente, sono già sedute, sì, sì. Che fatica, abbiamo qualcuno che deve arrivare, abbiamo le donne qua, è arrivata la velena, è arrivata la velena, bellissima, bene, 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 abbiamo un po' di spreco di uomini, no? No, non serve più. No, allora, chissà se la cucina mi sente, ragazzi, possiamo uscire con gli antipassi, eccolo qua, è accaduto in cucina, meno male, non sei neanche bagnato. Vieni, vieni qua, ti è accaduto in cucina, però, siamo arrivati, bravo, perfetto, ecco qua, ci siamo. Eccole qua, reduci da Napoli, le nostre amiche, ciao ragazze, siamo stati bene a Napoli, eh? Bene, possiamo parlare. Grazie. 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 Grazie.